Paola Perazzi è di Blue Hub, un'azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Ecco, qual è l'attività che svolgete? Che è un'attività ovviamente, essendo Camera di Commercio, vicina alle imprese. Sì, siamo un'azienda speciale, una delle tre aziende speciali che la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha attualmente. Quindi ci occupiamo delle implementazioni delle attività che sono state decise strategicamente dalla Camera di Commercio. Quindi noi siamo il braccio operativo. In questo caso siamo gli organizzatori dell'Hackathon, quindi questa gara di idee che si svolgerà online il 16-17 novembre. E siamo organizzatori del Coaching Event, quindi questo grande evento motivazionale per 470 persone che si terrà ad Imperia qui nella Sala Grande dell'Auditorium il 24 novembre pomeriggio e sarà un grande evento per cercare di potenziare gli skill di intraprendenza e imprenditoriali delle persone. Bisogna che andiamo un po' con ordine a questo punto. Partiamo da Hackathon, che è una gara tra l'altro molto veloce, mi pare durata di 24 ore online. Quindi in rete di corsa per fare che cosa? Per arrivare a proporre idee di impresa o nuove idee che verranno valutate e che verranno premiate con servizi specialistici in modo tale che la potenzialità imprenditoriale che è insita in queste idee possa arrivare tanto più velocemente al mercato essendo stata debitamente supportata da servizi specialistici che saranno erogati come premi. Poi è stato emesso un bando di sponsorship quindi invito tutti gli imprenditori, i consulenti, le associazioni e chiunque interessato a supportare l'intraprendenza e la creatività a proporsi come sponsor daremo la visibilità a tutte le sponsorizzazioni e quindi daremo la possibilità di poter concedere premi ad hoc e in modo tale che ci possa essere un paternariato locale di supporto destinato alla migliore realizzazione dell'iniziativa. Insomma chi vince non prende una medaglia o dei soldi ma semmai l'opportunità di avere della formazione un inserimento in impresa per capire come funziona quel mondo e domani è se ne partecipo. Servizi specialistici ai migliori e alle idee con il più alto potenziale per supportarle e fare il meglio per il territorio. Invece 24 novembre mi pare che lei abbia detto coaching event qui che cosa succederà, che cos'è questo coaching event? Saranno 4 ore di un'iniziativa con un coach a livello nazionale di grande rilievo finalizzate a dare alle persone partecipanti degli spunti, degli stimoli delle linee per reperire risorse personali per dare il massimo risalto alle proprie risorse personali. Sistema che in America si usa per stimolare i manager per dare come si dice una scossa, no? Infatti me l'hanno già detto, è stato organizzando un'americanata e bene sì, vogliamo testarla, vogliamo testarla ad imperia complice il fatto che comunque il territorio ha ospitato nobile e quindi qualcosa nell'aria ci deve essere rimasto.